Vintunesima e penultima giornata del girone verde di Serie A2, Reale Mutua Basket, Torino contro We Green It, Urania Milano. Un caleroso benvenuto al pala Gianni Asti. Torino prova a mettersi in proprio con Kennedy che l'appoggia al tabellone. Così in un mismatch comodo ma Amato interrompe il palleggio, si affida Lupusor che si alza da tre. Poi al fondo della retina e permette a Vencato di partire in transizione rapida ancora il numero tre, si appoggia, va fino in fondo. Amato si alza da tre, subito nell'azione, Andrea Amato si trova in ricciolo, ha un po' di spazio Peppe, la offre a Poser, quella parabola è inconfondibile. La attenzione a Amato nelle mani di Landy che ci pensa due volte, palla che finisce nelle mani di Montano contro De Vico, step back di Montano. E allora Peppe ha un po' di spazio, un po' corto, put back di Poser che legge benissimo il rimbalzo del pallone. Che vada De Vico, che si alza, fa finta del sarsi all'unetta, vada Cusin. Kennedy scambia con Vencato, prova Torino a trovare subito un pertugio, lo trova con Poser, con lo split, ottimo lavoro. Vencato, la alza per Poser! Se ne trova tra le mani di Andrea Amato contro Peppe, riapre per Landy da tre in transizione. Da Thomas, che prende lo step back da tre, risponde Pan per Focacca. Va da Thomas, con un pochino di spazio, la rotante Thomas, la dà Kennedy, riapertura per Cusin. Che va da Schina, facilmente leggibile, lotta Schina, la dà Peppe, che deve farsi però tutto il campo con pochi secondi. Cusin dalla media di stanza! Torino, nell'emergenza, con il cuore dei leoni. Questa situazione per riportarsi in vantaggio. Qua Veverly approfitta per invece convertire una schiacciata nel baratro lasciato da un Cusin, che momentaneamente era a terra. Ancora Simone Peppe, da Cusin, end off tra i due, Peppe da tre! Sulla sirena dei 24, Simone Peppe! Contro Bonaccini, si rinnova il duello. Va da Kennedy, che si alza dal mid-range, in sospensione, aiutandosi col perro il tabellone. Blocco di Lupuzor, che prova a far ruotare la difesa. Kennedy va giù, Lupuzor da tre, si può alzare! Pozz, lasciato un po' solo, metri dietro l'arco, Ghi, di Pozz! Contro Pozz, ancora che Andre Kennedy, vuole sfruttare il blocco di Cusin, che arriva solo ora. Kennedy contro Piunti, si alza dalla media distanza, che Andre Kennedy! E Vico, Luca Vencato contro Beverly. Ancora il numero tre, prova a farsi strada, la mette su! Il punteggio finale dice, Reale Mutua Basket Torino, 94, Urania Milano, 91.